Ciao, sono Sofia Bori, sono la presidente di Piano C. Piano C è un'associazione che si occupa da tanti anni di empowerment femminile. Supportiamo le donne a esprimere al meglio il proprio talento e a costruire i propri progetti professionali. Questa sera ho voluto condividere un po' di riflessioni sul tema della sorellanza, sul fatto che possiamo costruire un'alleanza tra donne, ma anche includendo gli uomini, che sia davvero un motore di cambiamento, che porti le donne a spendere al meglio il proprio valore nel mercato del lavoro e nella società e che anche porti noi stesse a vedere il nostro valore per cercare nelle altre donne delle alleate, per cercare nelle altre donne qualcuno con cui cambiare le cose e non necessariamente una nemica da contrastare che può rubarci spazio, che può non permetterci di accedere a delle posizioni apicali. Siamo stati abituati a vedere le altre donne come nemiche e invece possono essere delle grandi alleate.